Liberex oggi in Emilia Romagna coinvolge più di 450 imprese, di fatto ogni settore merceologico e produttivo, ma la cosa importante è che il circuito Liberex appartiene di fatto al gruppo Sardex. Sardex oggi è una piattaforma che permette a tutti i partecipanti di acquistare e vendere dalla Sardegna all'Emilia Romagna al Piemonte, all'Alliguria, al Veneto, quindi di fatto i partecipanti a questa rete hanno la possibilità di acquistare e scambiare in moneta complementare non solo all'interno del territorio, ma all'interno della rete che oggi comprende più di 6.000 aderenti. Io mi chiamo Paolo, Paolo Piras, sono l'amministratore di Liberex, il circuito di credito commerciale dell'Emilia Romagna. Liberex è una rete di imprese che volontariamente decidono di aderire al circuito per fare sostanzialmente una cosa, cioè scambiarsi bene i servizi, così come fanno ogni giorno nel mercato Euro. Lo fanno però all'interno del mercato Liberex utilizzando una modalità particolare, cioè acquistano e vendono tra di l'oro pagandosi non attraverso la moneta Euro, ma attraverso una moneta digitale interna, appunto il credito Liberex, il cui valore è identico a quello dell'Euro, per cui un credito Liberex equivale a un Euro, non è convertibile in Euro ed è spendibile esclusivamente all'interno del circuito. Il meccanismo che regola i pagamenti in Liberex, lo scambio tra i vari partecipanti, è un meccanismo che è regolato dal codice civile, è il meccanismo della compensazione, per cui è tutto come dire assolutamente legale, assolutamente distante da tutto ciò che riguarda le criptovalute, bitcoin, le speculazioni finanziarie di cui si è sentito parlare negli ultimi anni. Grazie a tutti.